Il Lido Bayadera di Oliveri è stato premiato ieri alla fiera In-Out nell'ambito del San 2024 di Rimini, salone internazionale del settore beach ed outdoor. Il Lido, di cui è titolare Francesco Scardino, che ha ritirato il premio nella famosa città della Rivera Romagnola, è ritornato sul podio alla fiera del TTC Travel Experience 2024 di Rimini dopo tre anni dall'ultima volta, era il 2021. In questa edizione si è classificato secondo nella categoria Best Italian Beach. Il primo premio è andato al Cala di San Giovanni di Polignano a Mare, secondo gradino del podio per il Lido Oliverese, che ha il parco giochi per bambini sulla spiaggia più grande della Sicilia, e terzo il Tulum di Latina. Le iscrizioni per il concorso Best Beach 2024 si sono aperte lo scorso luglio e si sono chiuse il 31 agosto. La giuria di Mondo Balneare ha preso in considerazione solo 18 candidati che hanno superato i mille voti e ha assegnato i premi suddivisi in quattro categorie. Best Beach Bar per gli stabilimenti balneari specializzati in ristorazione, cocktail e feste in spiaggia. Best Beach Design per gli stabilimenti balneari con architetture e strutture all'avanguardia. In avanti Best Italian Beach per gli stabilimenti balneari di eccellenza in termini di servizi, animazione e accoglienza, categoria dove ha brillato il Lido Bagliadera di Oliveri. E infine Best Beach, il primo premio assoluto per lo stabilimento balneare che rappresenta al meglio tutte le caratteristiche delle tre categorie precedenti. La giuria era composta da Mauro Donne, direttore di monto balneare, Fabio Cauli, ufficio stampa sindacato italiano balneari e confcommercio, e Corrado Lugabianca, direttore dell'associazione di categoria FIB Confesarcenti.